L'amministrazione comunale Terramana e la Team hanno mostrato ai rappresentanti di quartiere e frazione la decisione sperimentale di rimodulazione del sistema di raccolta del porta a porta, una sostanziale modifica della modalità di raccolta dei rifiuti urbani, con l'immissione del territorio in particolare nelle frazioni di una serie di isole ecologiche, e cioè grandi contenitori in cui potranno essere conferiti rifiuti di tutte le categorie in qualsiasi momento della giornata dai possessori di una tessera che verrà appositamente rilasciata. Si è visto che il porta a porta a spino, soprattutto nelle frazioni, nelle case sparse, aveva dei costi altissimi, quindi cerchiamo nuove soluzioni, ma questo non vuol dire che per il momento verrà tolto definitivamente, metteremo delle isole ecologiche in alcuni punti frazionali, per il momento non possiamo mettere in tutte le frazioni perché significherebbe investire risorse importanti che in questo momento la tema non può permettersi, quindi iniziamo un percorso, ci sarà sia, si continuerà con la raccolta differenziata, ma non più a cadenza settimanale, ma a cadenza quindicinale, e nel stesso tempo si darà la possibilità di conferire, presso questo in serologico, la tessera magnetica o col codice fiscale, quindi piano piano si potrebbe arrivare a una tariffa puntuale e precisa. Inizialmente adesso partiranno una sperimentazione della frazione di Nepezano e di Piano D'Accio, verranno installate tre isole ecologiche, poi però su tutto il territorio a livello frazionale, case sparse, ci saranno queste isole ecologiche. I tempi certi non glielo posso dire perché non vorrei dire cose inesatte, però a breve saranno installate queste isole ecologiche. un primo passo, vedremo poi le cose come andranno e sicuramente se ci saranno risultati positivi possiamo immaginare di modificare tutto il sistema a livello cittadino.